Tensione tra tifosi prima di Udinese e Napoli, feriti tre poliziotti e un tifoso friulano che ha rifiutato le cure. Pordenone e Udine continuano a rimanere nella top 10 delle città più vivibili in Italia, secondo Italia Oggi. Temperature in calo, pioggia e vento, l'autunno sta lasciando spazio all'inverno, domani le minime sotto zero. La star della TV Simona Ventura, ieri ospite al teatro Giovanni Daudine, oggi alla Dacia Arena, l'abbiamo intervistata. La capolista Napoli esce vittoriosa dalla Dacia Arena, ma l'udinese dimostra di aver già svoltato con il 3511 e Balic trequartista. Buonasera e buona domenica, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV. Avete sentito i titoli, apriamo con gli scontri che si sono verificati fuori dallo stadio. Prima dell'inizio della partita è di tre poliziotti feriti e un tifoso friulano che ha rifiutato però il ricovero in ospedale. Il bilancio delle tensioni avvenute all'esterno dello stadio, circa un'ora prima dell'inizio della partita tra Udinese e Napoli. Stiamo vedendo delle immagini che abbiamo trovato su internet, queste sono relative a Udine Today in particolare. I sostenitori delle due squadre sono venuti a contatto quando un gruppo di tifosi napoletani, pare circa un centinaio incappucciati e armati di spranghe, ha cercato di allontanarsi dalla propria zona, la curva sud solitamente destinata alle tifoserie ospiti, dirigendosi verso quella a nord, occupata dai supporter friulani. Le due tifoserie sarebbero entrate in contatto venendo divise da un cordone di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Queste invece sono le immagini di Rai Sport. Gli agenti hanno diviso e riportato i gruppi al loro posto. Sul posto è anche arrivata un'ambulanza del 118 che ha prestato le cure alle persone ferite, soprattutto per il lancio di oggetti contundenti. Quattro tifosi napolitani sono stati fermati e condotti in questura a Udine, mentre altri tifosi sono già stati identificati, le loro posizioni sono al vaglio. Come detto, tre i poliziotti feriti appartenenti al reparto mobile di Padova e un tifoso friulano che sarebbe rimasto ferito ma avrebbe rifiutato le cure in ospedale. Questo è il bilancio degli scontri di questo pomeriggio, degli scontri che hanno impaurito anche le persone che erano arrivate per vedere pacificamente la partita alla Dacia Arena. Voltiamo pagina, poi torneremo a parlare di calcio, questa volta giocato nello spazio dedicato allo sport. Qualità della vita, sempre a ottimi livelli invece a Pordenone e Udine, secondo Italia Oggi. Le due province si mantengono fra le prime dieci anche nell'edizione 2017 nella celebre indagine, soprattutto grazie a sicurezza e ambiente. Pordenone e Udine restano nella top ten delle province più vivibili d'Italia. Gorizia crolla e Trieste precipita. Lo rivela la diciannovesima classifica sulla qualità della vita d'Italia Oggi, curata dal Dipartimento di Statistiche Economiche della Sapienza di Roma. Nove macri sottori presi in considerazione per scattare una fotografia di come si vive nelle 110 province italiane, dall'ambiente al tenore di vita, dal lavoro alla salute. Svetta a Bolzano, seguita da Trento e Belluno, mentre Fanalino di Coda e Trapani. Pordenone conquista il nono gradino, Udine il decimo, perdendo però qualche posizione rispetto allo scorso anno, rispettivamente 5 e 3. Gorizia nel 2016 è risultata undicesima, mentre quest'anno è solo trentesima. Infine Trieste scivola dal 51esimo gradino al settantesimo. Scorrendo le varie classifiche, emerge che Udine è la seconda provincia italiana più sicura. Pordenone invece perde il primato 2016 e risulta settima. Inoltre, Udine è quinta per servizi finanziari e scolastici, mentre Pordenone ottiene lo stesso piazzamento per l'ambiente, grazie soprattutto a piste ciclabili e raccolta differenziata. Gorizia si distingue per il tenore di vita, mentre tutte e quattro le province registrano un incremento vistoso del disagio sociale. L'annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione ha portato a un vistoso calo delle temperature, mentre le forti piogge si sono concentrate per lo più nella zona delle valli del Natisone. Vediamo. Domenica da battere i denti su tutta la regione. Come ampiamente previsto, il fronte freddo sbarcato sul friuli Venezia Giulia ha portato a un brusco calo delle temperature, con nevicate in alta quota, vento da nord e bora fino a 110 km orari a Trieste. Pioggia intensa si sono verificata a San Pietro Natisone a Prada Manu, mandando in tilt la viabilità. Come riportato dalla protezione civile regionale, il fronte freddo è passato nella notte, con la pioggia che ha raggiunto picchi di 120 mm sulle prealpi Giulie ed è risultata concentrata in un arco di 6 ore, in particolare nelle valli del Natisone. A Cividale sono caduti in poche ore 73 mm di pioggia, a Pulfero 118, Orzano 71. Invece le precipitazioni sono state meno forti sulla fascia orientale della pianura, con 60-70 mm sull'Udinese e 30-40 sull'Isuntino. Nel tardo pomeriggio la colonina di Mercurio è calata vistosamente, tanto da far temere gelate notturne. L'inizio della settimana sarà decisamente gelido. Domani infatti le minime in pianura scenderanno sotto lo zero, le massime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 gradi. Cambio della viabilità per raggiungere Grado. Il ponte girevole sarà chiuso da domani a fine marzo per consentire i lavori di sostituzione dell'impalcato. Non si potrà quindi raggiungere l'Isola del Sole da Belvedere, tanto che l'amministrazione comunale gradese ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi della città per incentivare l'afflusso di turisti durante il periodo natalizio. Scatta la fase decisiva per i lavori sul ponte girevole Matteotti di Grado. Da lunedì 27 il manufatto sarà chiuso al traffico veicolare, in modo da procedere alla sostituzione dell'impalcato. Gli interventi sul ponte, risalente al 1936, procedono secondo la tabella di marcia. L'accesso all'Isola del Sole e dal ponte sarà interdetto fino alla fine dei lavori, prevista entro il mese di marzo. Siamo ben consapevoli che la chiusura del ponte comporterà disagi, ha dichiarato l'amministratore unico di FWG Strade Giorgio Damiani, ma è un passaggio necessario per predisporre il nuovo ponte. Abbiamo in ogni caso fatto tutto il possibile per comprimere al massimo i periodi delle attività e per concordare preventivamente con la comunità di Grado e con gli operatori economici le migliori soluzioni possibili, allontanando i lavori dalla stagione estiva e dall'impatto sull'indotto del traffico vacanziero. E proprio in virtù della chiusura del ponte, l'amministrazione gradese ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi dal 1 dicembre al 7 gennaio, con la sola esclusione degli stalli della zona rossa all'imitrofa al porto, in modo da incentivare l'afflusso di visitatori in occasione delle iniziative previste nel periodo festivo. Torniamo ora a Udine, ultimo giorno per la fiera di Santa Caterina, appuntamento tradizionale per la città e non solo, in tanti hanno affollato Piazza Primo Maggio per dare un'occhiata a tutte le curiosità e agli oggetti che erano in vendita nelle più di 300 bancarelle. Sciarpe, guanti, abbigliamento prodotti per la casa e soprattutto tante golosità e quanto propongono i 300 stendisti che hanno invaso le liste di Piazza Primo Maggio per la fiera di Santa Caterina. Un appuntamento che vanta 5 secoli di storia, ma che mantiene inalterato il proprio fascino. In maltempo non ha affermato gli udinesi e non solo, che hanno affollato Giardin Grande per curiosare tra le bancarelle e fare qualche acquisto. Una fiera capace di affascinare più piccoli, grazie a giocattoli e agli immancabili palloncini come gli adulti, alla caccia di qualche buon affare o semplicemente ingolositi delle lecornie e no gastronomiche. Immancabili gli stendi, torroni e frittelle, ma anche di specialità tipiche delle varie regioni italiane. Impossibile poi resistere agli ambulanti che illustrano il funzionamento di pentole speciali per cucinare o di prodotti per pulire la casa, capaci con le loro dimostrazioni di attirare l'attenzione dei passanti. E se piove e fa freddo, poco importa, anzi le temperature rigide contribuiscono all'atmosfera della tradizionale fiera, nata nel 1380 e non a caso tra le più antiche in Italia. Allora, l'abbiamo sentito anche nei titoli. Ieri Simona Ventura è stata ospita al Teatro Giovanni Daudine per un convegno organizzato dall'Associazione Laureata in Ingegneria Gestionale. Oggi è tornata alla Dacia Arena per una lunga intervista. Vi offriamo una piccola anteprima di uno speciale che poi andrà in onda durante la settimana. L'abbiamo sentita proprio in virtù della sua esperienza di imprenditrice, volto noto dalla TV nazionale. Ospite d'eccezione alla Fiera del Lavoro di Udine 2017, Simona Ventura, che viene a dialogare, a raccontare ai ragazzi come poter sfondare nel mondo del lavoro e non solo. Ma sfondare, più che sfondare, non mollare mai. Cioè trovarsi un posto in questo mondo che è molto diverso da quello in cui vivevo io quando avevo la loro età. Le opportunità sono tante, sicuramente tante difficoltà in più. Però l'importante è avere la personalità, il carattere e un'identità. Anche se il mondo ci porta veramente a un affrazionamento e a un annientamento forse dell'identità. Simona Ventura si è fatta anche imprenditrice dopo i tanti successi nel mondo dello spettacolo. Sì, mi è imprenditrice con questa web tv che ho iniziato nel 2009. Sono stata l'unica fino adesso averla fatta e poi dopo. Adesso però ci sono tanti mezzi in più per poter andare verso il futuro. Parlerò di innovazione e anche se poi alla fine della fiera insomma quello che è la nostra esperienza, quello che io ho fatto nella mia vita sicuramente mi verrà utile. È stata ospite, come dicevamo, anche alla Clubhouse oggi della Dacia Arena e vi proporremo un'intervista integrale, uno speciale durante la settimana. Adesso torniamo a parlare di calcio. Alla prima uscita con Massimo Oddo in panchina, l'Udinese esce sconfitta, fatta un rigore al 33esimo, realizzato da Giorginio Suttapin perché inizialmente Simone Scuffetta aveva bloccato la sfera, ma il brasiliano è stato più rapido. L'Udinese però ha mostrato agli spettatori presenti di aver già cambiato volto e anche assetto tattico. Ora andiamo a sentire la sintesi di Stefano Giovampietro. Ritorna in Serie A su una panchina Massimo Oddo, lo fa dopo l'esperienza al Pescara e lo fa ancora a caccia della prima vittoria sul campo, visto che l'unica vittoria del Pescara è avvenuta a tavolino contro il Sassuolo. È un Massimo Oddo che sfida Maurizio Sarri che vuole controsorpassare l'Inter che dopo la vittoria di Cagliari aveva sopravvanzato proprio il Napoli. Le scelte di Sarri sono abbastanza obbligate. Sorprendenti invece quelle di Oddo, 3-5-1-1 fuori Janto e Maxi Lopez, scelti Berica e Balic. Non benissimo l'inizio dell'Udinese con questo brivido su una mancata uscita di Scuffetta sul calcio d'angolo e bravissimo Samir poi a metterci una pezza prima. Ci pensa Danilo a evitare l'intervento di Coulibaly. Sarà una piccolissima sbavatura di una partita poi tutto sommato buona quella di Simone Scuffetta. Ci prova dall'altra parte l'Udinese con Rodrigo De Paul, il suo destro, la palla che si alza sopra la traversa di Pepe Reina. Nulla da fare per l'Udinese che ci prova poi anche su calcio piazzato il colpo di testa di Danilo schiacciato a terra. Non dà fastidio al portiere spagnolo del Napoli. Buona l'occasione comunque per il capitano che torna al centro della difesa tre. Poi Angella non ritrova il pallone sfortunato su questo rimpallo e abbatte in area di rigore Maggio. Colpisce sia Allan che il terzino destro scelto quest'oggi da Sarri visto l'infortunio di Mario Rui. Maggio che fa di tutto per non evitare il contatto. Un rigore che alla fine comunque può starci. Va Giorginio dal dischietto non a Mertens. Il tiro è pessimo. Para Scuffetta che purtroppo però non può nulla sulla seconda battuta di Giorginio che realizza il gol che porta in vantaggio il Napoli al trenta tresimo minuto. Nessuno dell'Udinese riesce ad arrivare prima di Giorginio che ovviamente è meglio appostato e deposita in rete il gol del vantaggio. Ad apprezzare comunque la parata di Scuffetta che visto il tiro debole non è riuscito ad allontanarlo. Poi se la prende con la difesa che non lo ha coperto a sufficienza. Il Napoli vorrebbe chiuderla prima della fine del primo tempo. Ci prova qui con Dries Mertens che arma Allan. Il destro del brasiliano finisce altissimo. L'ex di giornata si becca anche qualche fischio. Finisce il primo tempo 1-0 nella ripresa. Non ci sono cambi né per Oddo né per Sarri con la partita che continua sul filo dell'equilibrio. Nonostante la differenza, la distanza in classifica tra le due squadre ci prova Samir dalla distanza. Un tiro velleitario chiede scusa poi ai compagni per questo tentativo. Altra azione cominciata da Balic. De Paul salta due maglie azzurre. In becca Perizza che prova a sterzare su Chiriches. Ancora lui. Ancora Maggio. Forse il migliore in campo a chiudere la percussione di Perizza e a evitare guai peggiori. Perizza che poi lascerà il posto a lasagna. Break di Angela poi su una palla persa da Insigne. Pessima la sua prestazione. Sinistro di Barak. Reina non è perfetto ma non c'è nessun giocatore dell'Udinese pronto al tap-in. Poi Reina se la prende anche con i suoi difensori e con l'arbitro per non aver fischiato fallo su Insigne. Fallo che assolutamente non c'era. Lo squillo dell'Udinese fa da risposta poi il Napoli dall'altra parte con il tiro di Cagliecon. Ben piazzato. Centrale. Facile per Scuffet su quello che è stato forse l'unico errore dell'intera partita di Samir. Anche se c'era poi una posizione irregolare che Var alla mano avrebbe vanificato l'azione del Napoli vicino al gol del Radoppio. Un'Udinese che rimane in partita fino alla fine con Iancto. La palla che esce a lontana di Avarà. Palla nella zona di Widmer che ha l'idea migliore. Sterzata sull'avversario. Palla a Barak. Ancora lui che calcia. Questa volta Reina è molto più sicuro. La blocca evita che Iancto possa effettuare una battuta a rete vincente. Perde l'Udinese. Vince il Napoli che torna primo in classifica ma è una buona. Buonissima Udinese. La prima vista targata Massimo Oddo. Ora si prepara al trittico. Perugia. Crotone. Benevento. E allora sentiamo le prime parole, le prime dichiarazioni post partita di Massimo Oddo. L'allenatore deve stimolare i ragazzi e ci deve essere anche qualcuno che stimola l'allenatore quindi va bene sono molto contento. Ma questo comunque è sinonimo di che la squadra comunque ha offerto una prestazione sicuramente ottima, solida. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto in pochi giorni tutto quello che gli ho chiesto. A volte bene, a volte meno bene ma comunque credo che raramente si è visto un Napoli che su qualsiasi campo ha costruito meno di due o tre palle gol. E quindi per questo va merito sicuramente ai ragazzi, va merito al mister del Neri perché io non ho una bacchetta magica quindi è anche merito suo e sarà anche un po' di demerito del Napoli nel senso che ha giocato anche in Champions, sarà stato stanco tutto quello che vuoi. Però insomma io sono contento dei ragazzi a patto che si dia continuità a quello al lavoro che è stato fatto fino adesso. Noi abbiamo bisogno di vincere, di fare bene, di crescere e quale occasione migliore per vincere una partita ufficiale. Quindi non sottovalutiamo nulla e ci sarà l'occasione anche di vedere magari qualche ragazzo nuovo che meriterà di andare in campo perché non è che lo faccio così tanto per fare. Ecco queste alcune delle parole di Massimo Odori lasciate ai nostri microfoni ma di questo e di altro parleremo anche questa sera all'interno del contenitore Studio Stadio a cura di Stefano Giovampietro parleremo di tutto quello che si è verificato quest'oggi fra gli ospiti tra l'altro anche Carlo Longhi e si parlerà anche di una vicenda che ha interessato il post partita, le dichiarazioni di Sarri sul campo della Dacia Arena e la pronta risposta del DG Collavino. L'allenatore del Napoli infatti ha contestato lo status del campo dell'Udinese e ha detto che il campo non ci ha aiutato, lo stadio è molto bello ma il terreno di gioco è davvero indegno per la categoria e lo specchio del calcio italiano. Così ha voluto commentare la gara dei suoi mister Sarri e questa dichiarazione non è andata giù al direttore generale dell'Udinese Franco Collavino che ha subito rilasciato delle dichiarazioni alla stampa, si è lamentato del campo, sono stupito da queste affermazioni sulla qualità del nostro terreno, ha detto il DG Collavino, se il Napoli ha avuto difficoltà ad esprimere il suo gioco credo che sia merito dell'Udinese che ha ritrovato la voglia di lottare e non certo del campo. Qui sono venute a giocare molte squadre tecniche, mai nessuno si è lamentato, del resto anche la Nazionale ha scelto il nostro stadio per giocare due partiti alla Dacia Arena, si disputeranno i prossimi europei Under 21. La nota ufficiale si conclude così, trovo dunque strumentale e gratuita la polemica di Sarri e spero sia stata solo una battuta a caldo generata dall'adrenalina del post partita e di questo, di tutto quello che è successo questo pomeriggio ovviamente si parlerà a Studio Stadio fra pochi minuti. Rimanete quindi collegati con noi per la trasmissione di Stefano Giovanpietro e i suoi ospiti, fra questi anche Carlo Longhi. Noi invece abbiamo concluso, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona domenica.